Grillo dopo il flop, chi ha votato PD e PDL ha scelto lo status quo, i partiti condannano l'Italia, ma sul web fioccano le accuse e la sua strategia. Certo per Grillo è complicato dire che è la colpa del popolo, come si usa a dire, se il popolo non ci dà ragione cambiamo il popolo. Però l'analisi di Grillo è doppiamente inconsistente, primo perché è assurdo, in una democrazia è il popolo che vota e quindi non è che puoi dire il popolo è cattivo e non ci ha votato. Invece quel popolo l'aveva votato due mesi fa, quindi quelle stesse categorie che lui sostiene essere prigioniere della conservazione, dopo due mesi hanno deciso di non votarlo più. Questo è il vero punto.